91 casi di morti bianche, uno ogni quattro giorni. 33.000 infortuni sul lavoro nel 2022, di cui quasi 26.000 nei settori dell'industria e dei servizi. Sono alcuni dei numeri emersi dalla tavola rotonda sul lavoro, qualità e sicurezza promosso a Napoli dal gruppo del PD in Consiglio regionale. La Campania è maia nera al sud per le morti bianche ed è terza tra le regioni italiane. Ecco perché sindacati e istituzioni regionali hanno deciso di fare fronte comune per invertire la rotta. Con la mozione presentata in Consiglio regionale il 22 dicembre scorso dal consigliere Massimiliano Manfredi e sottoscritta da tutto il gruppo, il PD ha chiesto e ottenuto la modifica della legge regionale del 9 agosto 2013 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ascoltiamo Antonio Marchiello, Assessore regionale al lavoro, e Massimiliano Manfredi. Vedere in tv c'è un morto, due morti, è quello che fa rabbia e che dobbiamo evitare. I numeri non contano perché anche uno è troppo. Questo è il mio modo di vedere ed è questo che come Assessore mi impegno a fare. Siamo fortemente impegnati sul tema della sicurezza del lavoro. Il seminario di oggi fa il punto su due conquiste già ottenute. Il primo, l'introduzione in finanziaria di un fondo di 300.000 euro esteso anche ai parenti delle vittime di incidenti o di morti bianche. E secondo, la cosa a cui teniamo di più, il ricevimento da parte della Giunta della modifica della legge regionale sul lavoro, sulla nostra proposta, che consentirà in maniera quasi automatica alla Regione Campania di costituirsi parte civile all'interno dei processi anche alla luce della nuova giurisdizione e delle sentenze uscite. I sindacati evidenziano il salto di qualità della Campania sul piano legislativo e sul sostegno alle famiglie delle vittime. Sentiamo Giovanni Sgambati, segretario generale Will, Napoli e Campania, Nicola Ricci, segretario generale CGL Napoli e Antonio Altobelli, segreteria provinciale CIS di Napoli. Siamo di fronte ormai a un'ecatombe di tante vittime e tante poco conosciute di incidenti invalidanti anche molto gravi. Ci vogliono scelte politiche precise e soprattutto un intervento del Governo in tema di assunzioni personali e prevenzione, perché va bene reprimere ma la prevenzione viene prima. Dando qualità al sistema, al processo produttivo, solo così noi riusciamo a ridurre quello che è l'esposizione dei lavoratori.